Il galero ad otto cardinali. Il solenne e suggestivo rito ha luogo nella fastosa cornice della Basilica di San Pietro. Uno ad uno i nuovi porforati si inchinano per baciare il piede al pontefice, quindi scambiano con lui il primo abbraccio. Dopo il rituale saluto ai cardinali anziani, ritornano presso il trono e inginocchiati davanti a Giovanni XXIII ricevono il rosso galero. Questo cappello, come dice testualmente il Papa nel porlo sul capo ai nuovi eletti, è una singolare distinzione della dignità cardinalizia, per il quale viene significato che tu devi dimostrarti intrepido fino all'effusione del sangue per l'esaltazione della santa fede, per la pace e la tranquillità del popolo cristiano, per l'aumento e la stabilità della chiesa romana. Al termine della cerimonia il pontefice impartisce la benedizione apostolica e mentre nella cappella si leva il canto del tedeum, gli otto cardinali pregano prostrati sul pavimento e con il capo coperto dalle cappe.